La maggioranza assente o quasi è l'opposizione che abbandona l'aula. Niente numero legale dunque, la seduta del Consiglio Comunale sciolta prima del tempo. A Barletta tirano venti di crisi per l'amministrazione di centro-sinistra guidata dal sindaco Pasquale Cascella. Bisognava trattare di quattro argomenti, due debiti fuori bilancio, il piano del commercio, la proposta progettuale del piano di riqualificazione urbana. La maggioranza è sempre più divisa, l'immobilismo regna sovrano. Il sindaco intanto ha chiesto un chiarimento politico e ha indicato l'approvazione del bilancio di previsione come cartina di tornasole della capacità di coesione politica. Per Cascella si tratta dell'occasione per verificare se la maggioranza c'è, ma dall'ultimo Consiglio ha avuto le prime risposte. La maggioranza è fuggita, la maggioranza fugge sempre davanti ai problemi della città, quindi non possiamo più assistere a questo stato di cose. Il sindaco prenda in mano la situazione o altrimenti rassegni le dimissioni come può farlo in questo modo, lui può decidere certamente anche dopo questo Consiglio Comunale. Quindi la città non può più aspettare, dobbiamo necessariamente agire e quindi il sindaco deve tirare le sue conseguenze.